Con Igon abbiamo realizzato una piattaforma di carpooling aziendale, ovvero un sistema in grado di mettere in contatto dipendenti della stessa azienda al fine di raggiungere il posto di lavoro con la stessa auto, risparmiando così spese di carburante, riducendo il fenomeno del traffico e soprattutto facendo una buona cosa per l'ambiente. Il sistema non fa altro che registrare tutti i dipendenti della stessa azienda all'interno di una piattaforma e tramite un'app ogni dipendente può configurare i propri turni di lavoro settare quelli che sono gli spostamenti abituali di ogni giorno ed entrare in contatto con i colleghi con cui poter condividere il viaggio in auto perché magari hanno orari compatibili oppure abitano lungo lo stesso percorso che effettuano ogni giorno gli altri colleghi. Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.igoon.city oppure www.carpoolingaziendale.com